Il film racconta le vicende, le giornate di una persona che è un parcheggiatore abusivo, Pasquale De Fabio, coordinatore di sosta, agli arresti domiciliari. E quella che è la tensione principale del film è questo rapporto fra divieto, regole, che in qualche maniera il protagonista infrange in continuazione per occupare lo spazio che ha al mondo. Quindi è qualcosa che ha scelto, ma è qualcosa in cui vive, abita. Allora, diciamo, questo spazio, facendo questo film con Ennio, questo documentario, avevo intenzione di non perderlo, per andare ancora avanti con i ragazzi delle scuole, che facciamo carnevale, facciamo qualcosa di tutto lì dentro. Ma dato che è venuto l'ufficiale giudiziario, io lo dovevo per forza lasciare. E c'avevo due ore la mattina per vedere come dovevo fare per togliere tutta la cianfusagna, mandarla, se no si aggostravano di tutto. Luigi c'è letto, pente, era il cianfusagna. E mettendo tutta questa roba all'altro lato della stanza e coprendo il muro, quando è venuto l'ufficiale giudizia non ha trovato niente e ha murato la porta proprio. E io, abbiamo fatto il film, finisce il film, so che fra una settimana ho finito, ora non so più andare da essere domicilato, posso andare alla prossima settimana a riaprire, a rioccupare questo spazio per far sì che l'anno prossimo, due anni, ci siamo ancora noi dentro, diciamo, con tutte le attività che si possono fare. Il magazzino è popolato di cianfusaglie, di cose che Pasquale ha accumulato in molto tempo, che sono state lasciate da spettacoli tratali, da scenografie, siani, non sono termos, ma sono lampade che non funzionano, sono radio, sono letti. C'è un po' di tutto quello che Pasquale, come una formichina, ha messo da parte negli anni. E più che in contrasto con, diciamo, la vita di Pasquale, ne è forse la rappresentazione, così, come una pennellata, il modo migliore per raccontarla, nel senso che quel magazzino è uno spazio occupato abusivamente, in cui tiene tutte queste cose che magari sono inutili per tanti, però per l'unico. Ma sono utili anche per tante ragazze che vengono a cercarmi qualcosa per il teatro, che fanno il teatro, Pasquale, c'è questo, me lo presto, me lo do, senza soldi, senza problemi, me lo faccio col cuore, però me lo riportano indietro, così lo distribuisco anche agli altri, sai, nei quartieri di sanità, se hanno bisogno di un telo, qualcosa, e lo metto a disposizione di tutti, senza interessi. Il film lascia molto spazio al spettatore, volutamente. Tante cose non sono spiegate, ma crediamo che il documentario non debba essere semplicemente qualcosa di descrittivo e che può fare quella cosa che i film di finzione fanno normalmente, ovvero di lasciare quello spazio da abitare allo spettatore. Sul finale posso dire che anche non avendo una linea narrativa, noi siamo entrati nelle giornate di Pasquale, nel mondo che sta attorno a Pasquale, e nel finale lo abbandoniamo, rilasciandolo alla sua attività quotidiana, quindi sulla piazza, nei rapporti che ha con Sergio, il Marenaro, è questo. Definire il film con tre parole. Comincio io? Sì, finisci, se no. Tre parole soltanto. Pane, amore e fantasia. Ah, ci sta. Divertimento, ci divertiamo lì dentro. Se dovessi definire questo film con tre parole direi commedia abusiva e resistente. member? Sì. Grazie a tutti.